qua amici le melanzane alla calabrese sono state finite sbucciate tagliate a listarelle ok vedete la ricetta è semplicissima lavate bene le melanzane le sbucciate le tagliate a fette spesso un centimetro poi striscioline come più vi piace ogni due melanzane mettete un pugnetto di sale e un po di aceto bianco questo qua e proseguite così serve per non farle diventare nere mentre voi lavorate guardate cosa succede vediamo se riesco a farvelo vedere scusate un attimo c'è già l'acqua di vegetazione fate così a strato due melanzane pizzico di sale ad occhio mi raccomando col sale non eccedete perché quello che mettete poi ve lo trovate le melanzane arrivati a questo punto riempite tutta la la bastarda o il recipiente come chiamate io in cucina la chiamo la bastarda livellate per bene poi prendete un piatto lo mettete sopra così schiacciate guardate cosa succede schiacciando esce già l'acqua guardate questo è il lavoro che fa il sale poi prendete una pentola e le mettete sopra ok le tenete così con la pentola col peso per 24 ore dopo 24 ore prendete le melanzane ragazzi di strizzate e li condite con olio in cerveggio di oliva aglio un po di peperoncino se volete e tanta menta fate riposare un paio d'ore per prendere gusto poi vi prendete i barattoli sterili che avete fatto precedentemente bollire per 35 minuti barattoli e coperchi e fate asciugare all'aria questo per per il botulino e riempite i barattoli con le melanzane per bene e dovete schiacciare non ci deve essere aria alla fine prendete l'olio di semi e iniziate a riempire le melanzane dovete essere sempre coperte dall'olio non chiudete subito il barattolo perché ragazzi dovete aspettare un paio d'ore che l'olio si depositi passate un paio d'ore controllate il barattolo adesso se l'olio è sopra le melanzane potete chiudere se no aggiungete l'olio ragazzi mi raccomando coperte dopodichè ragazzi mettete in un luogo fresco e asciutto e per 15 giorni dopo 15 giorni potete aprire il barattolo e mangiarle queste più stanno più buone diventano le melanzane alla calabrese di bobo food della cucina di nonna solo per voi su questo canale un abbraccio dal vostro bobo food e dalla cucina di nonna iscriviti anche tu è gratis attiva la campanella rimani qua in contatto con la notta d'italia cioè bobo food ragazzi e mi raccomando facendo il passaggio dei barattoli bolliti è molto importante se volete mantenerle ancora di più le melanzane prendete barattoli e li bolliti per 20 minuti dal bollore tutto in acqua fredda bisogna iniziare ma tanto due anni non durano perché dopo 15 giorni inizierate a mangiare le manzane alla calabrese e ciao e alla prossima